200 partecipanti, oltre 60 società sportive, 11 regioni italiane, poi Norvegia, Finlandia e Hong Kong, 20 gare, le più importanti la sprint race, tour e Coppa Italia e da cornice altri eventi che vanno avanti fino al 27 giugno. Tutto questo è Calabria Orienteering 2019, che vede cimentarsi atleti appassionati di questa disciplina, unico nel suo genere in Calabria, è organizzato dalla Polisportiva Balle Argentino. Con il convincimento del Parco Nazionale del Pollino, la FISO, Federazione Italiana Sport Orientamento e i comuni di Scalea, Cetraros, Marso, Saracena. Un'esperienza unica non fosse alto, perché in un solo evento c'è sport e natura, turismo e conoscenza dei territori, ma anche fair play e accoglienza. In questa prima edizione si è avuto la possibilità di conoscere dello sport outdoor in Calabria, tra il Parco Marino Riviera dei Cedri e il Parco Nazionale del Pollino. Il clou della manifestazione sono queste due tappe di Orienteering, per cui due tappe di Coppa Italia. Erano oltre dieci anni che l'Orienteering a questi livelli non si praticava qui in Calabria. Una delle tappe della gara sprint si è tenuta a Orso Marso, l'altra a Saracena, nella zona dei Piani Novacco, che è un posto meraviglioso. A questo però si sono aggiunte tante altre attività, quindi rafting, si è aggiunto un bellissimo trekking nella zona della riserva orientata del fiume argentino, nell'area della povera Mosca. Si farà anche attività legata all'arrampicata, si praticherà anche snorkeling nella zona della riserva marina della riviera dei Cedri. Per cui chi ha partecipato a queste esperienze ha avuto la possibilità di vivere la Calabria, il famoso binomio Mare-Monti. Sport, turismo, ma non solo territorio conoscenza e no gastronomia, lo diciamo, lo ripetiamo. Binomi vincenti, ma non solo. E' anche questo una formula per poter far conoscere la Calabria e portare turismo nei nostri territori, che tra l'altro hanno risposto e hanno risposto in maniera eccellente. Esatto. L'esperienza che stiamo portando avanti, il progetto che stiamo portando avanti, è proprio quello di utilizzare in questo caso lo sport, come abbiamo già fatto negli anni precedenti con gli scacchi ad esempio, e utilizzare lo sport come motivo del viaggio. E nel momento in cui il viaggiatore arriva sul nostro territorio, poi sta a noi accoglierlo come sappiamo fare, raccontargli le storie che gli sappiamo raccontare, e quindi parlargli delle identità del nostro territorio, della gastronomia del nostro territorio, e fargli scoprire il nostro territorio in modi diversi.